Gli studenti romani adunati sul piazzale dell'università per salutare il primo scaglione degli universitari volontari. Il segretario del partito rivolge il saluto augurale. Le studentesse consegnano il fazzoletto di volontario ai partenti. I volontari si dirigono tra continue acclamazioni di popolo a Palazzo Braschi per proseguire verso il distretto militare. Grazie a tutti!